Spettacolo Perché la carbonara e la cacio e pepe a Copenhagen? Ma perché no vi dico io Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Copenhagen e dal castello di Rosenborg Tranquilli, non è un video sui reali danesi Tranquilli, ci sarà pochissima cultura come al solito Che ne dite di un bel coreano? Siamo da propaganda che a dispetto del nome è in realtà un ristorante coreano Questo è uno spiedino di rice cake e asparagi bianchi su un letto di pinoli con olio al basilico e riduzione di aceto Qui a Copenhagen, essendo una città alla fine molto multietnica, avete la possibilità di assaggiare le cucine più disparate Quindi molto contenti di avventurarci in un ristorante fuori dalle solite rotte E rice cake piccante, questo è super comfort perché il tinerone croccante e abbrustolito fuori, bomba Questo invece se riesco a prenderlo è un asparago, buonissimo ragazzi Io intingo bene tutto in questa cremina che mi sembra già pazzesca È un cannoncino morbido e mi piace molto il fatto che volutamente non si capisca quale pezzo è rice cake e quale pezzo è asparago Due cose a caldo, la prima super comfort food che sta arrivando sia l'ospedino di prima sia questi peperoni ripieni di riso Seconda cosa, meno male che a sto giro sono due così io e Gianno non le tiriamo A questo giro forchette coltello valgono Trattasi di peperone friggitello con gamberi, riso, una salsina rossa di cui non ricordo gli ingredienti E una maionese all'erba cipollina Onestamente...arrivo eh Anche se non sembrerebbe, non picca esageratamente ma sapete quando il piccante mi prende alla sprovvista? Ecco quello che è successo adesso No è molto buono, sembra un piatto di casa nostra, non sembra neanche coreano onestamente Due su due, molto buono anche questo Chiudiamo con costolette di manzo al barbecue con insalata di pomodori fermentati Tutti i piatti che ci hanno portato hanno dei colori bellissimi, semplici ma veramente belli Super tenerone ragazzi, tenero, gustosissimo, quasi quasi, facciamo così Questo è proprio una cosa che non ho mai mangiato La fermentazione li ha ammorbiditi, sono super gustosi, freschi, molto piacevoli Ha provato questo posto La carne si scioglie in bocca, si sente il sapore della griglia e a questo punto visto che mi hanno autorizzato vado di mani Buonissima Francia ovviamente non ha potuto fare a meno di ordinare anche il dolce Ma sono sicura che poi alla fine un cucchiaio lo vorrai anche tu Gelato al cioccolato, salsa tahini al caramello e crumble ai semi di sesamo Tra l'altro il cioccolato credo che sia piccante, è piccante Quindi ragazzi se venite qua sappiate che pizzica tutto Molto bene ragazzi abbiamo speso 78 euro per questi quattro piatti e ci è piaciuto molto E ricordatevi siamo a Copenhagen, non siamo in un posto economico Parchi a caso a Copenhagen per riempire il video Faccio anche questa inquadratura qua che non è niente male E giunsero infine in uno dei tanti castelli di Copenhagen E niente volevamo entrare ma non abbiamo tempo Ma tanto dite la verità neanche voi volevate entrare Vi portiamo da un'altra parte Oh io volevo andare a mangiare raga ma Francia vuole entrare a tutti i costi in questo museo qua E di conseguenza portarvi con lei Siamo finiti in zona Nordhaven qui a Copenhagen A provare gli ottimi tacos della irreprensibile Hia de Sanchez Prenderemo la taco combo e poi prenderemo ancora i fish taco Cocktails Tac In dreams Qua la situa è un po' complicata Dunque Hia de Sanchez che by the way penso che vuole dire figlia del signor Sanchez Ok Ha aperto questi posti che sono un pochettino più easy street food E poi c'è Sanchez che invece è il fine dining Dove credo che deciderò di portargiano? Super farcitone Ciccidone Questo è col beef l'altro col pollo giusto? Questo è con il manzo ragazzi Che buono Un po' coloso Piccantino Buono buono Andiamo col secondo che è un altro animale Credo maiale se non mi ricordo male E cipolline sott'aceto sopra Che buono ragazzi È davvero molto saporito Non è solo buona la carne e la tortiglia ma anche i condimenti che ci mettono dentro sono davvero particolari leggermente speziato super piacevole quello di prima aveva il coriandolo questo qua invece non ce l'ha però sono dei bocconi davvero squisiti la combo taco che abbiamo preso prevedeva appunto un taco di beef un taco di maiale se non erro e poi un terzo taco veggie che però purtroppo oggi non possono fare perché tipo gli manca un ingrediente quindi alla fine gli ho detto senti ma al posto del terzo taco che non mi puoi fare mettimi una bowl di patatine con la salsina non le volevamo prendere però alla fine mancando un taco le abbiamo prese uguali Sì preparati perché è piena di coriandolo e super piccante altro piatto i fish tacos fritti che hanno una bellissima faccia tutto ciò che è fritto ha una bellissima faccia sì effettivamente sì promossi? brava chef come poi è promosso? la chef ha lavorato per un sacco di anni a Noma quindi qualcosa ci capisce di cucina stavamo per uscire poi passo lì davanti c'è il disegno dei mini churros io voglio i mini churros non bastava inquadrare la foto no e sì perché tanto qua con la scusa che si fa tutto in nome del content vale tutto no? e prendiamo anche i churros meli zuccherati salsa di caramello salato porcosi il giusto molto buoni li trovo radicalmente diversi da quelli recentemente mangiati a Valencia ma altrettanto buoni ora possiamo andare a casa abbiamo speso 58 euro stiamo per entrare al castello di Rosenborg non pensavo fosse ancora abitato il castello lui è il figlio di qualcuno importante e questi qua erano i suoi giocattoli con cui lo addestravano per l'arte della guerra vi piacciono le mie descrizioni accurate? era il figlio di qualcuno importante e bellissima questa è la spada parlo sottovoce perché non si può parlare qua con cui facevano tutte le incoronazioni dei re ed è utilizzata ancora oggi e relativa corona che dite siamo stati abbastanza rapidi vi ho risparmiato tutto il percorsone dentro perché tanto so che non ve ne frega niente però ragazzi se avete sufficiente tempo oltre alle mangiate qui a Copenhagen il palazzo è carino mi sono spaventata sì perché nel frattempo succedono cose militari alle nostre spalle dicevo certo non ci siamo collegati al wifi perché secondo me i wifi a cavallo tra il 1600 e il 1700 non erano poi così sicuri ma noi ce ne freghiamo perché abbiamo NordVPN la figata di NordVPN è che se voi vi collegate a un wifi che non conoscete i vostri dati vengono criptati e navigate sicuri in totale serenità ormai lo sapete già non rallenta la vostra connessione è facile, intuitivo e vi potete collegare da qualsiasi server nel mondo di modo tale che possiate scovare le migliori offerte online ad esempio per comprare voli o hotel e ma mica vi lasciamo così senza codice sconto nordvpn.com slash cosa mangiamo oggi qui è in descrizione per la migliore offerta possibile sul piano a due anni più l'opzione soddisfatti o rimborsati così potete cambiare idea per esempio e ora c'è proprio bisogno di un po' di comfort food qualcosa di ignorante tipo una bella carbonara qui a Copenhagen non la vuoi trovare? la classica carbonara danese sarà la nostra quarta, quinta volta a Copenhagen perché non dare una chance anche alla cucina italiana e quindi se si parla di cucina italiana perché non cominciare con l'emblema una bella carbonara e una bella cacio e pepe abbiamo trovato un bellissimo chioschetto qui nel mercatino in centro a Copenhagen gestito da dei ragazzi romani e quindi scateniamo l'inferno spettacolo anche la cacio e pepe è solo pecorino e pepe essendo la cucina romana proprio povera no noi cerchiamo di in maniera orgogliosa di rappresentarla com'è sono un po' coperte dal pecorino però credo che ne travedete ottimo perché la carbonara e la cacio e pepe a Copenhagen? ma perché no vi dico io mi sembra abbastanza cremosa buono il condimento buoni tonnarelli c'è una fraccata di pepe il guanciale è veramente guanciale ci raccontavano che quando hanno aperto questo posto qualche anno fa hanno dovuto i primi tempi fare un po' di education nei confronti dei danesi perché la gente si chiedeva ma come mai questa carbonara è così gialla? ma dov'è la panna? ma dove sono i funghi e dove sono le cipolle? capite che loro con calma si sono messi lì gli hanno spiegato come si fanno le cose fatte bene hanno gli ingredienti giusti si fanno mandare il guanciale dall'Italia insomma è una roba come si deve e stanno anche insegnando alle persone che vivono qua come si fa veramente la carbonara ok do ancora un assaggino e poi passiamo alla cacio e pepe per quello che riguarda la cacio e pepe invece il discorso è un po' diverso perché all'estero la carbonara è piuttosto famosa come piatto per quanto poi la gente la sbagli e metta degli ingredienti che non c'entrano niente invece la cacio e pepe ci raccontavano che all'inizio la gente non sapesse proprio cosa fosse perché non era così famosa come la carbonara e quindi anche lì piano piano col tempo hanno insegnato alle persone anche ad apprezzare questo piatto che poesia ragazzi questo è uno di quei piatti che se rimanessi su un'isola deserta io mi porto la cacio e pepe e la cacio e pepe ve l'abbiamo detto mille volte anche nella ricetta che abbiamo fatto a casa è un piatto difficile da fare per quanto abbia solo due ingredienti la cremina è un attimo che la sbagli vabbè ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo preso anche un aglio e olio braga bella tra l'altro questi spaghetti sono una roba pazzesca ragazzi fatti sul momento eh a passo e spaziale al dente bella ciotta non sono degli spaghetti i capelli d'angelo se siete a copenhagen improvvisamente dovesse mancarvi casa ora sapete dove andare quindi ragazzi oggi vi abbiamo portato in questo mercatino che c'è qua in centro a copenhagen molto caratteristico direi vi scriviamo il nome in sovraimpressione perché è troppo complicato da pronunciare un piatto di pasta costa intorno ai 130-140 corone danesi in euro franci? non sono preparata 17-18 euro e visto che le tapas ci sono piaciute adesso andiamo nella versione fine dining sempre di Sanchez la chef di questo posto si chiama Rosio Sanchez ha lavorato per tantissimi anni al Noma e dopodiché come molti degli allievi di Renere Zepi si è aperta un posto tutto suo il mio paloma è arrivato la mia guacamole anche mancherebbe giusto una spiaggia bianca e un tramonto ma prima o poi riusciremo a raggiungere anche questo traguardo ci sono arrivati un po' di appetizer ragazzi quindi la classica tortiglia con la guacamole hanno veramente un bel aspetto e le chips con due tipologie di salse una salsa verde e una salsa al labanero e per la salsa al labanero siamo stati avvisati be careful voglio cominciare subito con labanero per asfaltarmi le papille gustative non troppo careful pesto cresce nel tempo ma è buonissima primo commento veloce a caldo solo su tortiglia e chips di solito queste cose qua per quanto possano essere buone non sono mai niente di particolarmente sorprendente invece devo dirvi ragazzi che ora non so il resto del menù ma siamo partiti davvero molto bene si vede lo stacco tra l'attaccheria e questo posto è arrivata una ceviche si dice così a base di rombo e pomelo con abanero e acetosella il pesce delicato quasi dolce che contrasta con l'agrume ovviamente acido e non è assolutamente piccante buonissimo questa è una sorta di piadina che solitamente viene riempita di formaggio o di fagioli qua è ripiena di pisellini verdi con erbe di stagione e salsa verde è buonissimo fresco la salsa è piccantina mi piace tantissimo siamo giunti al chile reieno che è un peperone ripieno solitamente ripieno di proteine in questo caso l'hanno riempito con tre pesci diversi tonno, pollock che non mi ricordo che cos'è e merluzzo e all'esterno c'è una salsina ci hanno avvisato parecchio piccante ah e c'è anche l'avocado dentro eh molto interessante tutto caldo è un piccante piacevole non è niente che ti brasi la bocca non avevo delle aspettative così alte questo posto merita pancia di maiale cotta nel suo grasso con coriandolo e cipolle una salsa di alapegno alapegno sott'aceto con delle bacche che ora vi dico il nome in italiano olivello spinoso solitamente le vedete in versione matura e sono arancioni cavolo con elderflower e ovviamente ci sono le tortillas pancia di maiale amico coriandolo perché siamo coraggiosi si una squintalata alapegno, secondo alapegno un po' di cipolla bello piccantuso, il maiale buonissimo chiudiamo con il sorbetto di melone c'è qualcosa di piccantino sopra anche il sorbetto non avevo mai mangiato in un ristorante di livello messicano super super promosso adesso scopriamo quanto pagheremo avrei voluto inquadrarvi anche la piccola pasticceria se non fosse che Franci se l'è già inglobata questo è tutto quello che resta abbiamo pagato per i due menù degustazione il cocktail e l'aperitivo di tortiglia guacamole eccetera eccetera 1535 corone che si aggirano intorno ai 200 euro in totale considerando i prezzi di copenhagen mi aspettavo di più visto che si tratta di fine dining allora questa mattina ce la chilliamo un po' per copenhagen Franci è voluta venire a vedere una torre gigante di cui non abbiamo molte informazioni adesso vi faremo sapere di cosa si tratta si chiama Rundentarn ed è una torre dove tu vedi fai senza fare gli scalini secondo me è carina grazie Franci era proprio questa la spiegazione culturalmente importante che stavo cercando venite con noi è martedì e ci sono tutte le scolaresche di Puppenaghe sempre più stretto se salite fino in cima trovate l'osservatorio laggiù dove vedete quell'inceneritore si trova il Noma e si trova l'Alchemist e giunsero infine al bar un posto molto interessante nonché Franci correggimi se dico male ma ex location del Noma yes non dico male davvero un posto parecchio figo con la cucina a vista e nonostante sia la nostra quinta, sesta volta a copenhagen non mi sono ancora abituato del tutto al fatto che qua si cena alle 5 ragazzi sì perché sono le 5 ma fortunatamente abbiamo saltato pranzo quindi c'è un certo languorino cosa abbiamo preso Franci? sono venuta qua per il comfort food per eccellenza che si chiama schnitzel qua la godoletta a godoletta come la fanno i danesi però abbiamo preso qualche starter ma il pezzo forte sarà la cotoletta la schnitzel si vede lontano un miglio che c'è lo zampino del Noma dietro allora abbiamo preso due piatti fagiolini con il formaggio tutta una serie di bellezze sopra e invece qua abbiamo la beef tartare con la maionese al rafone e pomodori scapece ma quanto abbiamo fatto bene a non prendere solo la schnitzel ma prendere anche due starter raga bellissimi e allora della carne me ne occupo io che buona raga con la maionesina rafanata il rapanello il pomodoro scapece e un'esplosione di sapori allora viene schnitzel ovviamente di maiale questa è una salsa fatta con il burro nocciola e dove ci sono capperi disidratati alici limone capperi di sambuco e anche del shallots se non mi viene scalogno mentre lì a fianco ci sono delle zucchine grigliate sono condite con del succo di limone praticamente bruciamo dei limoni e poi facciamo il succo quindi sarà un po' fumicato anche e poi c'è dell'olio fatto sempre con l'erba cipollina a fianco c'è della panna montata con del succo di rafano poi c'è dell'aceto di mele e del rafano fresco sotto ci piace perché nel dubbio ci hanno lasciato il pentolino per fare il refill di burro è arrivata una schnitzel quindi una cotoletta di maiale impanato con del burro nocciola capperi acciughe e anche dello scalogno poi ci sarebbe anche tecnicamente la panna con le zucchine ci ha spiegato che volendo possiamo anche aggiungere la panna rafano sulla cinizze nel caso non fosse abbastanza carica allora è molto buono perché il tutto ha una nota acida molto pronunciata e quindi ti viene voglia di fare subito un altro boccone c'è un profumo di burro ragazzi che viene su da sto piatto che non potete capire ma vabbè non ha senso ragazzi voi direte col burro è tutto buono no è proprio buona i capperi che la rendono ulteriormente sapida ci stanno davvero bene c'è una nota acida come dice Franci e ragazzi io da sempre lo dico che il segreto nella cucina è l'acidità però è illegale questa roba qua devo dire un side piuttosto leggero per accompagnare questa schnitzel col burro ecco è buono non è una porcata è buonissimo non certo un piatto colesterolo friendly però questa è la cotoletta della vita chiudiamo qua il video anche perché da un punto di vista delle calorie siamo a tappo abbiamo speso 95 euro ok sono i soliti prezzi di copenhagen ma ne è valsa la pena consigliamo caldamente questo posto vi diciamo iscrivetevi, fate like, condividete ci vediamo al prossimo fantastico video a przyj a przyj Grazie a tutti.